La procedura è che abbiamo installato la nuova enterprise e voi e il vostro partner. E poi vediamo cosa succede. Il nuovo partner è un uomo o una donna? La risposta è una donna. Quindi una donna per il nuovo progetto? Quindi qualcuno che rappresenti lei? E qualcuno per la sua partner? Stelte stare qui. So. 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 Grazie. Grazie. Ho parlato una volta con lei e abbiamo visto che abbiamo avuto praticamente la stessa idea allo stesso tempo. In tedesco abbiamo un termine molto particolare. Comunque in italiano potremmo dire un progetto che è fra le nuvole. In primis, come prima cosa, lei ha guardato per terra. Quando non si guarda per terra, appunto, su qualcuno che è morto, si guarda verso il cielo. Se non si guarda per terra, si guarda verso il cielo. Un'altra donna. Tu sei un altro progetto. Tu sei un altro progetto. Per lei, solo per lei. Quindi, ripeto, un nuovo progetto solo per lei. Grazie. 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 Grazie a tutti. Devi muovere naturalmente. Non è facilissimo. Non è così facile. Ci vuole un po' di sforzo. Io credo di essere sufficientemente forte. Si pensa di essere sufficientemente forte. È tutto chiaro? Ok. Bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.